a quella serie di messaggi la speranza voglio giusto ricapitolare brevemente che la speranza non è una parola che è venuta dal cuore di dio vi ricordate naomi fu una parola che nacque dal cuore di naomi e poi dio l'ha adottata e troviamo questa parola scritta nella bibbia 433 volte domenica l'ultima serie che abbiamo avuto l'ultimo messaggio due settimane fa abbiamo parlato come questa speranza può essere positiva e può essere negativa e qui abbiamo concluso infatti col salmo 39 quando il salmista grida e dice liberami da tutte le mie colpe non farmi essere l'oggetto di scherno dello stolto liberami da tutte le mie colpe davide pregava perché non voleva essere l'oggetto che lo stolto si avrebbe reso riso cioè della sua fede ma davide pregò e disse liberami signore queste sono parole di speranza perché quando noi preghiamo guariscimi signore quando noi preghiamo liberami signore quando noi preghiamo salva signore sono tutte preghiere fatte con speranza e così vediamo che stamattina vogliamo aprire la bibbia finalmente dopo tante settimane che siamo stati nel vecchio testamento e stamattina rientriamo nel nuovo testamento dove questa parola speranza che naomi disse a ruth che speranza c'è seppure mi sposerei oggi e avrei dei figli voi li potete aspettare e dio adottò questa parola speranza che ricordatevo sempre menzionato lo menziono un'altra volta e forse ancora un'altra volta immaginate a vivere una vita senza speranza sarebbe veramente un caos e la speranza oggi abbiamo qualche afflizione speriamo domani sarà meglio domani forse le stesse afflizioni sono là ma speriamo che viene sempre il meglio e noi speriamo per il meglio così stamattina vogliamo aprire la bibbia nel libro dei romani l'evangelo della grazia la giustizia recata dal secondo adamo celebrata nel trionfo delle conseguenze sopra il peccato che adamo introdusse nel mondo e gesù che ha preso la natura di adamo ha tolto il peccato dal mondo in lui troviamo salvezza la speranza della vita eterna capitolo 5 i primi tre versi vogliamo leggere insieme romani 5 1 a 3 dice pace e riconciliazione con dio dove si vive si manifesta la vera speranza quando noi abbiamo pace con dio e paolo inizia queste sono le parole giustificati dunque per fede abbiamo pace presso dio per mezzo di gesù cristo nostro signore per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale siamo saldi e ci vantiamo nella speranza ecco la parola ci vantiamo nella speranza della gloria di dio e non soltanto questo ma ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che l'afflizione produce perseveranza meravigliose parole molte volte viviamo in un'era che tanti va si vantano abbiamo fatto questo abbiamo fatto quello e non è nulla di male se lo facciamo in un senso di umiltà perché vantarci ci porta l'orgoglio ed è molto pericoloso che l'orgoglio è una sfida che noi facciamo a dio però professare le cose per la gloria di dio di come il signore ci benedice come il signore ci prospera come il signore ci porta avanti come il signore ci libera non è niente di male l'apostolo paolo infatti egli dice che si vantava egli era orgoglioso non nel senso umano ma nel senso spirituale della gloria di dio la gloria di dio voglio ricordarvi che dio è giusto dio è santo dio è amore tutti gli altri caratteristiche che dio c'ha non è geloso dio non ha mai detto che è geloso della sua santità non ha mai detto che è geloso della sua potenza non ha mai detto che è geloso della sua sovranità però c'è una cosa che dio è geloso ed è geloso della sua gloria perciò quando l'apostolo qui parla che dice che egli si vantava e man perché aveva una speranza nella gloria di dio egli parlava da quello che il suo cuore era ventuto era afferrato dalla grazia di dio era ventuto a dio ed egli era orgoglioso di essere un cristiano ora sappiamo che quando noi usiamo questa parola quando noi diciamo siamo cristiani ci sono persone che si irritano ed infatti dobbiamo stare attenti come noi la usiamo anche questa parola come professarci cristiani perché a volte mi sono trovato di fronte ho udito certe persone che quando questi hanno detto io sono un cristiano e la persona risponde ma amiche io sono un animale e dobbiamo stare molto attenti quando usiamo questa parola cristiano perché possiamo offendere le persone e noi dobbiamo essere cauteli perciò io preferisco dire conosci Gesù oppure sei nato di nuovo al posto di usare una parola che una persona si può trovare che sembra che l'insultiamo usiamo le parole che noi possiamo aprire una porta che possiamo parlare di Gesù sull'apostolo paolo egli dice che egli si vantava non perché che era un cristiano ma si vantava della speranza che egli aveva nel cuore della gloria di dio e questo dobbiamo stare anche noi questa mattina siamo fieri non è vero che apparteniamo al dio creatore del cielo e della terra apparteniamo a un dio che non si mette sul trono e dice dovete ubbidirmi io sono il vostro re e l'unico re che ha morto per i suoi sudditi infatti nessun altro re ha morto per i suoi per il suo popolo ma il nostro re ha morto per noi sulla croce ha pagato il nostro debito e stamattina ci incoraggia a rientrare in questa virtù della gloria di dio ora l'apostolo non l'apostolo correggo mosè quanto dio lo chiamò lì nel deserto dietro al greggio del suo no del suo suocero dio gli diede una promessa e gli dio disse va torna in egitto e vai a prendere il mio popolo e me lo porti sopra questo mondo e poi disse a mosè la mia presenza è un dono in altre parole dio fece capire a mosè come ce lo fa capire a noi stamattina che non meritiamo la sua presenza è un dono che dio ci dà però la presenza di dio e anche con quelli che non sono qui nella casa di dio sì quelli che sono là fuori nel mondo sono nella presenza di dio quelli che sono in un bar che sfidano sono nella presenza di dio mosè capì una differenza e questo vorrei portare alla vostra attenzione perché c'è una differenza tra la presenza e la gloria so perciò mosè quando arrivò un bel punto mosè che aveva realizzato tra queste due virtù divine e gli disse signore io voglio vedere la tua gloria perché vi dico la verità la presenza di dio è un tono la presenza di dio è una cosa eccellente nella nostra vita io non voglio vivere neanche un minuto senza della presenza di dio nella mia vita voglio la presenza di dio costantemente nella mia vita voglio la sua presenza che sia sempre con me però quello che fa la differenza che noi veniamo come dice l'apostolo paolo che egli aveva si vantava di questa speranza e la differenza è la gloria di dio quando noi veniamo insieme siamo nella sua presenza ma quello che fa la differenza che le anime nostre giubilano di gioia è la sua gloria quando la sua gloria si manifesta in mezzo a noi mosè non potette ma gustò in parte perché dio gli disse mosè tu non puoi vedere la mia gloria se la vedi morrai ora questo vi fa ricordare come mosè era d'accordo con me il paradiso è bello è meraviglioso ma io non faccio il volontario aspetto quando arriva il tempo della morte quando dio dice mosè aveva lo stesso sentimento perché mosè se lui era volontario quando dio ha detto se vedi la mia gloria tu muori e mosè avrebbe detto ok signore io sono pronto no non disse così si accontentò di come dio gli aveva detto io ti nascondo metto la mia mano davanti a te poi passerò e tu mi vedrai di dietro vedrai par porzione della mia gloria fratelli sorelle io lo so che tutti qui siamo maturi spirituali e io credo che tutti in qualche maniera abbiamo avuto un piccolo assaggio della gloria di dio ma se veramente quando noi arriviamo a vedere la gloria di dio non c'è nulla da paragonare di tutto quello che abbiamo conosciuto finora amen sì giovanni l'apostolo era stato con gesù probabilmente quando erano bambini avevano giocato insieme perché sono cugini umanamente parlando giovanni giovanni è l'apostolo e poi ha seguito gesù è stato l'unico che la notte quando gesù ha rivelato riguardo la santa cena e ha rivelato che non mangerò più di questo pane non berrò più di questo vino finché tutto è compiuto nel regno di dio giovanni aveva la sua testa sul seno di gesù giovanni ha sentito il peso quando gesù ha detto uno di voi mi tradirà potete immaginare sentiva i palpiti del cuore di gesù ah che privilegio però vorrei ricordarvi che quando giovanni si è trovato nell'isola di patmos era lo stesso gesù che egli aveva messo la testa sopra il suo cuore era lo stesso gesù che egli aveva visto e andare sull'alto solaio a porte chiuse dire pace a voi era lo stesso gesù che ha detto come il padre mi manda a me ora io mando a voi però l'ha vista un altro livello quando egli era lì apocalisse capitolo 1 nell'isola di patmos che fu portato per essere lì per morire che l'avevano buttato l'olio bollente addosso era portato portato lì per essere confinato allontanato dalla società allontanato dalla sua chiesa la chiesa di efeso era la sua chiesa che lui pastorale però giovanni si è ricordato qualcosa e gli dice che quando arrivò la domenica piace la bibbia italiana che espressivamente chiama il giorno del signore domenica la bibbia inglese dice quando arrivò il giorno del signore ma la bibbia italiana la chiama proprio domenica giovanni dice io ero in spirito vuol dire che egli era nella presenza di dio sentiva la sua presenza lì quando tutti erano lontani quando tutti l'hanno portato ad essere abbandonato dio non l'ha abbandonato alleluia era lì con lui e tutto un colpo la bibbia dice e che egli fu trasformato in spirito e il signore se l'ha portato in gloria e quando egli ha visto lo stesso gesù però dice che è accaduto come morto e poi ce lo descrive un po' a gesù ci descrive che i suoi capelli erano candidi come lana ci lo scrive che egli camminava in mezzo ai candelabri che rappresentano le chiese ce lo descrive che giovanni ha svenuto e noi possiamo dire giovanni ma è lo stesso gesù è vero ma il fatto che l'ho visto è un'altra trasformazione più gloriosa che non l'avevo mai visto nella mia vita però voglio dirvi anche che giovanni non ha potuto descrivere colui che sedeva sul trono cioè in altre parole vorrei che mi seguite quando paolo dice che egli si vantava e noi stiamo saldi noi stiamo fermi e ci vantiamo nella speranza della gloria di dio voleva significare che man mano che noi cresciamo spiritualmente man mano che ci avviciniamo sempre di più a dio man mano che dio si rivela sempre di più non ti fermare a quello che già conosci perché hai conosciuto solo in parte c'è molto da conoscere il nostro dio è infinito il nostro dio non si può spiegare il nostro dio non si può ratificare con parole umane perciò giovanni cerca di dire la gloria la manifestazione del trono di colui che sedeva sul trono e cerca anche di definire che ha visto gesù come l'agnello immolato e voglio ricordarvi che per tutta l'eternità ho detto l'altra domenica scorsa se vi ricordate al messaggio della santa scena quando noi arriviamo in gloria il nostro corpo sarà trasformato e abbiamo un corpo un corpo glorificato che io ancora non lo conosco e no mi ricordo quando ero giovane ma non ero non ero glorificato mi ricordo come ho cresciuto e voi mi avete visto crescere farmi più anziano ingrasciarmi e tutte queste cose però non è un corpo glorificato potete immaginare che ne sarà come sarà questo corpo glorificato e perciò dobbiamo vantarci di questa speranza dobbiamo essere orgogliosi e giovanni vide l'agnello immolato perché per tutta l'eternità fratelli e sorelle noi abbiamo un corpo glorificato mentre gesù porterà l'impronte nelle sue mani e porterà l'impronte nel suo capo e porterà l'impronte dove è nato la chiesa pensiamoci il figlio di dio l'impronte non si non si guariranno mai per tutta l'eternità io e te abbiamo un corpo che non si ammala più abbiamo un corpo perfetto abbiamo un corpo glorificato perciò ci abbiamo molto da rallegrarci fratelli l'apostolo paolo guidato dallo spirito santo fa una esposizione e vorrei che quando andate a casa perché non non mi fermo qui stamattina noi continueremo ancora perché questa parola speranza che la troviamo come ho detto 433 volte nella bibbia è una parola fenomenale che signore ci aiuti a poterla capire in parte perché come ho detto poco fa vivere una vita senza speranza io credo che sarebbe la vita più miserabile che si può vivere sopra la faccia della terra e l'apostolo paolo guidato dallo spirito santo fa una esposizione dottrinale sistematica ricca da poterci contemplare come lui la contemplava che veniva ispirato da scrivere dei risultati che derivano dalla verità egli poteva insegnarci e ci insegna la prima cosa romani 151 la prima cosa giustificati dunque per fede sì senza di questa giustificazione abbiamo la speranza ma è una speranza nelle cose che non possono aiutarci possiamo avere speranza nel dottore possiamo avere speranza campiamo il presidente possiamo avere speranza campiare un governatore possiamo avere speranza speranza nel sistema in cui noi viviamo ma tutto questo non ci aiuta però abbiamo quando una volta che siamo stati giustificati dunque per fede non per opere non per religiosità e da allora che paolo ecco perché queste sono molto importante nel senso dottrinale non si può trasformare si dia fatto le cose tutte belle stabilite non puoi essere salvato se prima non dipendi dei tuoi peccati è inutile che uno può dire se non si pende se non c'è pendimento il pendimento non è giusto la parola mi pento perché il fatto che sarebbe troppo facile quello mi pento però io ti chiedo scuso ma io mai mi dimentico quello che tu no pendimento vuol dire restituire in altre parole la nostra vita pendimento proprio nel senso greco è che io sto andando così è un bel momento realizzo che vado all'inferno mi pendo e torno in dietro questo è pendimento è una trasformazione di vita vado verso un traguardo giustificato per fede giro e vado verso un altro traguardo non va non cammino più il cammino che camminavo c'è una trasformazione e questa trasformazione paolo ci dice che noi abbiamo avuto pace presso dio per mezzo di gesù cristo nostro signore con queste espressioni fratelli e sorelle egli ci eleva non so voi come vi sentite quando leggete queste espressioni se queste espressioni ci elevano a maggiore altezza ci elevano alla maggiore conoscenza ci elevano ad una maggiore eloquenza e anche a una certa regola religiosa perché le regole ci sono e la sua parola ci ispira quando noi leggiamo romani capitolo 5 come abbiamo cantato il cantico stamattina tu sei fedele signore questo cantico che è romani capitolo 5 è una parola così ispirata che quando noi lo leggiamo nel senso ispirato possiamo quasi cantarlo e possiamo dire giustificati adunque per fede abbiamo pace presso dio per mezzo di gesù cristo diventa un canto o potrei dire un inno perché la parola canto può essere anche una canzona questi inni nuovi che stanno facendo a volte non so se cantano agli innamorati o cantano a dio un canto vorrei usare la parola se me lo permettete è un inno la parola inno è qualcosa che nasce dal fondo del cuore è un inno di trionfo è un inno di adorazione paolo disse io mi rallegro io mediante la fede ho l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di dio che bell'inno su romani capitolo 1 cioè 8 verso 1 paolo continua qui e ci dà come ho detto è un inno è qualcosa che ci assicura la la vita nuova paolo parla nei romani 8 1 ricordatevi ho detto questo è l'evancello della grazia la vita nuova sotto la grazia secondo lo spirito di santità e di adottazione guardate come paolo questo inno che esce dice ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in cristo gesù i quali non camminano secondo la carne erco la differenza non camminano secondo la carne ma secondo lo spirito romani capitolo 11 verso 33 un'altra volta troviamo un altro inno di adorazione in questa epistola quando paolo può dire da 33 a 36 e degli dice o profondità di ricchezze di sapienza e di riconoscenza di dio quanto imperscrutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili le sue vie sapete queste due parole inescrutabili e in inesplorabili non c'è definizione sono parole definite non si può aggiungere e non si può togliere e poi verso 34 dice chi infatti ha conosciuto la mente del signore c'è qualcuno qui stamattina che ha conosciuto la mente del signore no non ci arriveremo mai ricordate ve l'ho detto nel passato voglio ricordarvi ancora stamattina io mio padre avevamo un conflitto e spesso ci ci non ci litigavamo ci ci prendevamo su quella frase che papa mio padre mi diceva che l'amore di dio è sovrano e io dicevo no è l'amore di gesù sovrano perché gesù ha detto io do la mia vita per i miei amici e gesù è morto sulla croce e mio padre diceva sì però dio ha dato se dio non lo dava gesù non poteva morire e dicevamo fino a che una sera mio padre educatamente avendo più conoscenza di me mi disse figlio mio quanto diventerai papà allora mi capisci e lo capì quanto la prima volta che mia figlia Sara io andavo a portarci la bottiglia lei disse papà campiò tutto il mondo e cosa venne nella mia mente proprio le parole di mio padre avrei voluto io sacrificare mia figlia a morire per i ribelli paolo dice se lo diamo per qualcosa di buono almeno c'è un grande onore vediamo si ritira un militare dalla guerra la nazione abbassa le bandiere la nazione gli fanno un corteo perché era lì per proteggerci ma dio invece ha mandato il suo figlio a morire sulla croce e se il latrone non si avrebbe pentito gesù avrebbe morto su quella croce come un cane tutto solo alleluia perché gli apostoli lo abbandonarono quelli che hanno ricevuto miracoli non erano lì grazie a dio per quel latrone che ha incominciato a proteggere il figlio di dio dicendo all'altro se noi siamo qui è giusta regola ma lui è un innocente e poi signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno e gesù disse oggi stesso sei meco in paradiso solo apostolo paolo qua perciò ci dice chi infatti ha conosciuto la mente del signore o chi è stato il suo consigliere o chi gli ha dato per primo o chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa perché se uno ha dato si aspetta la ricompensa noi non abbiamo dato niente ci stiamo dando ora l'umilazione del nostro servizio ma è dio che ha dato poiché da lui dice paolo perché da lui per mezzo di lui è in vista di lui sono tutte le cose a lui sia la gloria in eterno amen sapete fratelli sorelle la speranza grida nelle difficoltà se noi l'ascoltiamo la speranza grida quando noi siamo nelle difficoltà e il suo grido è non arrenderti che tante volte le difficoltà ci fanno arrendere abbiamo difficoltà nel matrimonio pensiamo di risolverlo col divorzio non è la soluzione la speranza grida non arrenderti il tuo problema oggi ascoltate bene la speranza ci dice il problema oggi saranno il miracolo domani credi nelle promesse di dio e ringrazialo con il grido della speranza cioè il mio problema oggi sarà il miracolo domani questa è la speranza perché io credo che dio domani trasformerà le cose ogni domenica quasi sempre concludiamo con quella frase il meglio deve ancora venire signora ha fatto belle cose ma il meglio deve ancora venire per esempio per il nostro caro fratello albini che abbiamo fatto il funerale di recente il suo meglio è venuto perché al momento che ha dato l'ultimo respiro qui sulla terra ha fatto il primo respiro dell'aria divina nel cielo il meglio deve ancora venire sulla speranza grida in noi fratelli e sorelle che non dobbiamo cedere sotto le difficoltà sotto l'incudine del mar sotto al martello e l'incudine non arrenderti perché il problema che stai attraversando stamattina sarà il tuo miracolo domani e se sarà il tuo miracolo domani c'hai molto da raccontare e glorificare il nome del signore e concludo l'apostolo ci mostra con tutta sicurezza la necessità della giustizia di fede la vittoria completa sul trionfo e sulle conseguenze del peccato egli ci lascia con queste parole e quando andate a casa per piacere leggetelo perché continuerò domenica prossima su questo soggetto ancora egli ci lascia con una vera rivelazione con dio una vera trasforma un vero trasformamento egli ci lascia con realizzare che siamo stati riconciliati con dio e siamo nella sua presenza nella sua presenza c'è pace nella sua presenza respiriamo l'aria divina nella sua presenza abbiamo un avvenire nella sua presenza abbiamo una certezza e perciò egli dice romani 5 2 per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di dio su quella croce gesù ha preso la mano del padre e poi ha preso la tua mano o la mia mano e su quella croce ce l'ha connettato abbiamo pace con dio per mezzo di gesù cristo alziamoci in piedi signore grazie stamattina ancora una volta per la tua parola non farci perdere questa speranza signore una semplice parola ma è una parola che non ha fine è una parola signore che è difficile approfondirla o spiegarla perché soltanto quando noi la viviamo possiamo realizzare il potere possiamo realizzare la forza possiamo realizzare la profondità di questa speranza grazie signore stamattina per come hai parlato ai nostri cuori grazie ancora per daniele silvia che sono in mezzo a noi tu li guarderai li accompagnerai benedirai la loro vita li continua a usare tutta la famiglia per la tua gloria e ora padre vogliamo far sì che tu prepari i nostri cuori per ricevere il tuo messaggio tramite il tuo servo che ci parlerà stamattina signore grazie per gesù il tuo figlio per lo spirito santo per la tua parola e per la pace ed il riposo che troviamo nella tua presenza coprici con la tua gloria signore nel nome di gesù amén amén stamattina spero che rimanete tutti ancora qui abbiamo siamo uno dei casi